Questo è stato l'ultimo giro in moto del 2023. La giornata è abbastanza bella, c'è un bel sole, ci sono 6 gradi ma si viaggia bene. Quella lega cos'è? L'isola bella? L'isola bella. Il lago Maggiore è un lago prealpino di origine fluido glaciale. Le sue rive sono condivise tra Svizzera e Italia. Il nome Maggiore deriva dal fatto che è più grande tra i laghi della zona, ma tra i laghi italiani è il secondo. come si chiama questo? Il presepio di osteria dell'E3D. E qui siamo a Ginese, in direzione del motorone. Ma che bello, fantastico! Il rame, c'è veramente un'infinità, un ojo. Sei contento? Come ti trovi con la moto nuova? Da Dio! Da Dio! Un vino d'occa della casa! Polenta e cerco! Gli ho dato polenta e cervo Direi anche abbondante Che cos'ha questo Giovanni? Buonetto Dolce pimentese Fatto di cioccolato e amaretto E amaretto Dai vai all'assaggio Che mi dici com'è? Com'è? Ragazzi ci hanno passato i 30 secondi Ma mi sembra che non ti è piaciuto tanto Non era tanto buono La versione La versione è piaciuta Grazie a tutti.